L'ortoressia nervosa è una condizione nella quale si cerca in modo patologico il cibo salutistico, è un disturbo del comportamento alimentare. Non è sbagliato andare a cercare il cibo salutistico, anzi tutti noi che operiamo in campo della nutrizione promuoviamo un'alimentazione sana, ma quando la ricerca di un cibo sano all'eccesso diventa patologica allora si perde di vista il consenso generale e il senso generale dell'alimentazione che deve essere fatta di tanti alimenti. La paura patologica che un determinato alimento mi possa far male perché si è letto un articolo, perché si è sentito una persona che parlava negativamente di un certo gruppo alimentare diventa patologico e questo comporta un rischio per la corretta salute, la corretta nutrizione perché sappiamo che in questo modo privandoci di gruppi alimentari, di tipologie di alimenti riduciamo l'apporto completo dei nutrienti. Quindi l'ossessione della ricerca esclusiva al rischio di non mangiare altro se non quello di cibi iper salutistici diventa un comportamento anomalo che si può definire all'interno dei disturbi del comportamento alimentare.